Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andremo a vedere all'opera un'apertura con la quale potrete sorprendere spesso i vostri avversari perchè non saranno preparati e spesso perderanno anche in poche mosse Stiamo parlando dell'apertura Dunst dove ci ho già fatto un video teorico e oggi vediamola all'opera Ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video e iniziamo Eccoci qui, prima partita, cavallo C3, l'apertura Van Gitt o Dunst, l'avversario ha giocato con G6 Quindi proviamo a rientrare in un attacco Grand Prix Come vedete qui l'avversario ha 2273, un signor punteggio, però sta giocando mosse stranissime Mi sta giocando l'apertura Ippopotamo, quindi credo che l'ho spiazzato Perchè la mossa cavallo C3 non se l'aspettano E non aspettandosela non ci pensano abbastanza e giocano un po' a caso in apertura Quindi spesso sorprendiamo l'avversario nel senso che lo facciamo rientrare in varianti che non conosce Ok, qui credo già di avere un ottimo attacco dopo 10 mosse Devo solo cercare di capire un po' come fare Il pedone F si sacrifica molto volentieri quando si gioca l'attacco Grand Prix Qui non so se catturare, però lui cattura di cavallo, quindi facciamo cavallo G5 Minaccio matto in H7 Ok, gli ho dato anche il pedone in D, questo non l'avevo visto Anche se questo alfiere ora in D4 dovrà perdere un tempo Invece lui ha giocato cavallo F6 Allora catturiamo in F5, minaccio l'alfiere, minaccio pedone per G6 Credo di stare meglio qui Sì sì, alfiere in presa Catturiamo, abbiamo già un pezzo in più come vedete dopo solo 14 mosse Non credo che lui abbandonerà ma su cavallo F5 giochiamo alfiere per F5 Ok, lui mi attacca la donna Dove la mettiamo la donna? Sono indeciso se giocare donna H4 o donna G4 Credo vadano bene entrambe, giochiamo donna H4 E qui quasi quasi spingo il pedone in F6 Credo di avere un ottimo attacco, penso la partita praticamente sia da abbandono qui Ok, lui cattura, catturiamo Vediamo un po' cosa succede Giochiamo cavallo E4, sono pronto a giocare cavallo G3 Ok, perfetto, cavallo G3 e ora è finita Ora veramente non può fare assolutamente nulla lui qui, credo Vediamo un po' cosa ci combina Io sono pronto a giocare cavallo per H5 E chiaramente poi donna H7 scacco matto Guardate la facilità con cui si possono vincere le partite con uno cavallo C3 Ok, qui sacrifica la donna addirittura Interessante, però non capisco sinceramente Perché posso giocare torre F1 su torre 1 Cioè, dovrei essere a posto qui, no? Cioè, non capisco donna per F6 Ok Qui giochiamo alfere D2 Boh, alfere D2, alfere C3 non sta abbandonando, mi sembra un po' strano Mi sembra stranissimo che non stia abbandonando l'avversario Qui sacrifico anche in H5 tranquillamente Vediamo un pochettino Ok, allora qui il matto forzato in qualche modo ci dovrebbe essere Cavallo F6, catturo, donna H8, scacco matto Eccolo lì Abbandonato ragazzi Incredibile Incredibile Cioè, avete visto? Già dopo poche mosse la partita era già stata decisa 1 cavallo C3 Bella apertura Io ve la consiglio Ovviamente dovete studiarla un po', però guardate che roba Più 1.9 dopo solo le 7 mosse Passiamo alla prossima, dai Ok, eccoci qui Prossima partita Cavallo C3 contro il 1959 Lui ha giocato pedone D6 Allora giochiamo E4 tranquillamente Su E5 facciamo alfiere C4 Quindi rientriamo in una viennese ibrida Anche questa ve l'avevo spiegata O comunque apertura ad alfiere, non so se vi ricordate Andatevi a recuperare i vari video È veramente devastante questa qui Con tante possibilità d'attacco Giochiamo direttamente cavallo F3 Lui gioca cavallo C6 Ok, arrocchiamo Lui cattura in E4 Catturiamo in E4 E ora mi chiedo come farà ad arroccare intanto Gioca H6 perché aveva paura di cavallo G5 Però anche H6 non dovrebbe essere neanche come mosso Ho la possibilità di giocare cavallo H4 Cavallo G6, no? Quindi già qui dopo 8 mosse La vedo dura per lui Vediamo cosa fa Se fa cavallo E4 Forse faccio cavallo G6 Ma non lo so Oppure no, no, scusate C'è donna H5 Donna H5 9 mosse Vinco già subito la partita Incredibile Mamma mia Che spettacolo ragazzi C'è matto imparabile Re7 Donna F7 Scacco matto Bellissima No, vabbè L'apertura Van Guit O Danst È veramente spettacolare ragazzi Sempre con la stessa mossa in apertura Potrete sorprendere il vostro avversario Cioè voi giocare sempre 1 cavallo C3 Poi rientrate in Aperture d'attacco Trovate anche il video teorico Potete andarlo a recuperare E qui Guardate che roba Cioè Lui qui ha sbagliato Poi ha giocato H6 Ovviamente non poteva Non potendo arroccare Ha sbagliato tutto il piano E qui c'era scacco matto In tre mosse Bellissimo Wow Stupendo Veramente Quindi in solo le nove mosse Abbiamo vinto Vabbè Spettacolo Passiamo alla prossima partita Bellissima questa apertura Comunque Eccoci qui Prossima partita 1 cavallo C3 Eh Lui ha risposto con cavallo F6 Su cavallo F6 Vi consiglio lo stesso E4 Perché è molto probabile Che l'avversario vada con E5 Esatto Voi rigiocate Alfele C4 E l'idea qui È Di nuovo giocare Pedone D3 Per poi giocare F4 L'ho giocato D6 F4 In questo modo Avete impostato Un'apertura d'attacco Ora lui qui ha catturato Non me l'aspettavo nemmeno Quindi facciamo cavallo F3 Come vedete Lui sta giocando In maniera veloce Gioca un'apertura Apparentemente normale Tranquilla Ma secondo me Già il bianco Qui ha un sacco di opportunità D'attacco Ok qui arrocco Gioca cavallo D4 Sta giocando anche bene Secondo me I pezzi li ha sviluppati bene Ha ritardato l'arrocco Però comunque Abbiamo più spazio Secondo me Già il bianco un pochino Sta meglio Lui catturo Lui deve fare alfiere G6 Ok E qui ora Devo cercare di aprire la posizione Semplicemente Giochiamo pedone 5 Catturo d'alfiere Nel caso Sto attaccando B7 Lui ancora deve arroccare Quindi dopo 12 mosse Penso di avere Almeno un po' di vantaggio La cosa bella È che li sto sorprendendo Tutti in apertura Vediamo Lui cosa decide Di fare Ok ha catturato Benissimo E ora Ok vedete Lui arrocca Tranquillamente E io sono molto tentato Di catturare il pedone In B7 Quindi catturiamo in B7 Su torre B8 Catturiamo in C7 Abbiamo due pedoni in più Lui può prendere il pedone B Non l'ha neanche fatto Perché forse gli intrappolavo la torre Con l'alfiere B3 Ok Qui devo stare un po' attento Anche se C'è più due pedoni Di cosa stiamo parlando Due pedoni in più Tre pedoni in più Tre pedoni in più Torre in presa Vabbè Vabbè dai Comunque stanno giocando Anche abbastanza male Però Uno di Uno di quelli che Ho beccato prima Aveva più di 2200 Aveva 2270 Addirittura E l'apertura Che li sorprende Qui sacrifico anche la qualità Cioè non capisco Il senso di continuare Una partita di questo tipo Con Più 6 per me Di vantaggio Ok No Qui non mi conviene Catturare Cos'altro possiamo fare Ma Facciamo C3 di 4 Ok Grazie Perfetto Più 7 Arriverà Questo abbandono No Non ne ha proprio Voglia di abbandonare Ora facciamo Scacco Ora ci dovrebbe essere Scacco matto Se non sbaglio No Come si fa a dare Scacco matto Torre H6 Torre H6 Scacco matto Ok Perfetto Wow Andiamo Qui si passa Direttamente alla prossima Eccoci qui 2239 Ok Vediamo lui Mi ha giocato G6 Quindi Rientriamo in un Grand Prix Ok Qui catturiamo Gli doppiamo i pedoni Come vedete Pedoni doppiati Questa la so giocare Benissimo Questa variante Lui fa Il ferie G4 Se cattura In F3 Catturo Ha giocato Torre B8 Vediamo Ok Credo che Già sto meglio Posizionalmente La cosa bella È che Tutte le partite Giocate fino ad ora Nelle prime 10 mosse Ho sempre avuto vantaggio Quindi Partita Molto Cioè Cosa molto interessante Ok Qui Spingo in E5 Attacco anche C6 Catturiamo prima N5 Su alfiere perce Donna per C6 Su donna D7 Gioco Donna per C5 Invece Lui ha fatto Cavallo D7 Però a questo punto Mi chiedo Come farà Ad arroccare Alfiere H6 Di nuovo Credo Un grosso vantaggio Posizionale Qua Ok Non è proprio Semplicissimo Però Penso che Il bianco Stia molto meglio Ora devo spostare Il cavallo Non so bene Dove metterlo Se è in D4 Se è in E4 O in D5 Perché non vedo Niente di concreto Facciamo E4 Cavallo E4 Devo stare attento La torre in A1 Lui gioca Torre B6 Attaccandomi La torre in A1 Vedi Però io me ne ho scaccumato In una mossa Anche se Lui può fare E6 Esatto E6 E niente Perdo la qualità Dovevo stare un pochino Più attento Prima Quindi giochiamo Donna C4 Ancora Credo di avere Delle ottime chance Lui non può arroccare I suoi pezzi Non sono messi bene Questo è ciò che conta Quindi vediamo un po' Cioè Di nuovo Penso di stare bene Qui Anche se lui ha più 3 Di vantaggio Addirittura Eppure Posizionalmente Non si direbbe Cioè più 3 Con il materiale Come vedete Pedone torre Per alfiere Però qui non sa Cosa fare E questo è il bello Non sa cosa fare Cosa gioca Ci sta pensando Io potrei anche Catturare il pedone In C5 Lui ha le case scure Completamente Deboli Ragazzi Questo è il suo problema Il mio alfiere In H6 È un mostro Non so Se farà Cavallo E5 Non lo so Che fa qui Abbandona direttamente No scherzo Non lo so Vediamo un po' Che è da un po' Che ci sta pensando Sì vabbè Oh la mossa Più sbagliata Del mondo Donna H4 Cioè cavallo D6 Guadagna la donna Eppure C'è anche pensato 2239 Cioè Questa È l'apertura Che sorprende Ve lo dico io Questa È l'apertura Che li sorprende Non sanno bene Cosa fare E rispondono Con uno G6 Su cavallo C3 E poi non la conoscono Quindi cavallo C3 Questo ha giocato G6 È rientrato In una siciliana Che magari Non gioca neanche Non rientra neanche Nel suo repertorio E guardate Che roba Cioè ero già in vantaggio Cosa vi ho detto Già in vantaggio Più 2 Vabbè che poi Magari forse Ho sbagliato qualcosa Perché Mi sono ritrovato In difficoltà Esatto Qui ad esempio Dovevo fare cavallo D5 Con Vabbè più 4 Cioè partita Completamente vinta La partita qui Era da abbandono Pazzesco Perché non poteva fare Torre B6 Invece con cavallo E4 Gli ho dato l'opportunità Di giocare Torre B6 Qui neanche Torre per C2 Poteva fare Vabbè Vabbè Vantaggio posizionale Enorme Invece con cavallo E4 Gli ho fatto Torre B6 Va a stare un po' meglio Però Vediamo cosa doveva giocare Ok lui qui Ha sbagliato completamente Doveva giocare Torre G8 Sì Ma chi la trova Torre G8 Ma che stiamo scherzando Passiamo Passiamo alla prossima Dai Ok Prossima partita 2019 Cavallo C3 Lui gioca C5 Oh Abbiamo trovato uno Che probabilmente Sa cosa fare Non lo so Dragone Iper accelerato Incredibile Ok Giochiamo Questa qui È un sistema Giocato anche Da Karsen Ci ha battuto Un grande maestro Proprio con D4 Dona per D4 Ok F6 Non l'ho mai vista Sinceramente Cioè Non so proprio cosa sia Giochiamo tranquillamente Con cavallo F3 Allora probabilmente Anche lui è stato sorpreso Dall'apertura Perché siamo Dopo 5 mosse Lui ha giocato Roba strana Cioè non credo Manco esista Questa roba Che sta giocando Lui con F6 Alfiere G7 Qui il bianco Sta già molto meglio Credo Lui fa Pedone A3 Sì A6 Vuole fare B5 Questo è chiaro Vuole giocare Pedone B5 Facciamo Pedone A3 Per impedire Cavallo B4 Comunque Vabbè Sto attendendo Lui fa E6 Addirittura Mamma mia Ha giocato addirittura Pedone E6 Mi sembra molto indietro Con lo sviluppo Quindi io arrocco Cerco subito Di impostare un attacco Lui fa Cavallo E7 Su Cavallo E7 Anche lui Secondo me Sta cercando Di arroccare Però Allora Quasi quasi Gli gioco Cavallo D4 In questa posizione Perché Perché se arrocca Gioca Cavallo per E6 Quindi Sto minacciando Cavallo per E6 Guardate Non l'ha manco vista Incredibile O almeno ci dovrebbe essere Cavallo per E6 Qui giusto Cavallo per E6 Se cattura Perde la donna Quindi Non può catturare Nessun modo Donna E8 Ok Cavallo C7 Attacco Donna Attacco la torre Questa è già da abbandono Cioè Dopo 12 mosse Incredibile L'abbiamo vinte tutte subito Le partite La cosa bella è questa Quindi 1 Cavallo C3 Mossa Geniale Secondo me Su chess.com Giocate 1 Cavallo C3 In apertura Ve la dà Mossa geniale Apertura Vangit Ok Lui fa Re H8 Facciamo Alfiere B6 Attaccando la donna Quindi Deve fare Donna E8 A questo punto Cavallo C7 Quindi Rimetto il cavallo In gioco Come vedete Posso giocare Cavallo D5 Attaccando di nuovo La donna Lui la deve Spostare di nuovo Lì Vabbè dai Più 6 Cioè ma di cosa stiamo parlando Più 6 Più 6 Questo è da abbandono Ma ha voglia A te se è da abbandono Poi ci pensa Che ci pensa a fare Ora ci doveva pensare Prima Casomai Ok Ha fatto Donna per E7 Cosa facciamo Facciamo F3 Lo chiamo in maniera Solida Abbiamo una torre In più Netta Torre pedone in più Sto preparando Cavallo D5 Lui mi Mi pare che abbia Zero compenso L'avversario Sinceramente Ok Questo scacco Facciamo Re B1 Ha zero possibilità D'attacco Zero compenso L'alfiere in B7 Ok E' stato sviluppato In B7 Giochiamo Cavallo D5 Lui fa Donna E6 A questo punto Dovrei sviluppare L'alfiere Non so bene Dove metterlo Ma credo Anche in D3 Possa andare bene L'alfiere D3 Cioè io Non vedo Assolutamente niente Per lui Può fare al massimo Cavallo E5 Che potrebbe darmi Un pochettino Noia Diciamo Comunque non è facile Anche le partite vinte Vanno sapute vincere Soprattutto A bassi livelli Molti hanno partita vinta E non la sanno vincere Questo è un grosso problema Non so se vi capita A voi Però so che capita spesso Quando si è a bassi livelli Quindi non bisogna mai Diciamo Rilassarsi troppo Qui catturo in E7 Abbiamo più 9 Ok Lui Prende il cavallo Decide di Catturare il cavallo Io gioco Alfiere D4 Preparo Donna C3 Oppure E5 E lui qui Si rimette a pensare Il problema suo È che non ha proprio gioco Non ha i pezzi coordinati Non sta attaccando nulla Io non ho debolezze Nella posizione Giochiamo pedone G4 Per attaccare Cioè ora bisogna Bisogna non perdere più tempo Quindi sto per fare G5 Oppure H5 Ok facciamo H5 Poi H6 Wow H6 Ha spinto veramente Quindi H6 Ovviamente Te la becchi Donna C3 Sto attaccando Il pedone in F6 Lui fa Re G8 Ok G8 Catturiamo in F6 E qui giochiamo E5 Tranquillamente Io credo sia da abbandono Voi che dite Non lo so Cioè io direi Vabbè dai Questa è da abbandono Ok Qui mi sono beccato Questa forchetta Con l'alfiere Vabbè Secondo me Ho comunque un grosso vantaggio Infatti Più 4 Invece di più 6 Abbiamo più 4 Ma Più che altro Lui non ha nessuna chance Qui Io direi di catturare Lui addirittura Ha lasciato trascorrere Tutto il tempo Ragazzi C'ha più 5 secondi Cioè è uno che non vuole mai Abbandonare Vabbè 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 Dai Usiamo torre 1 E via E sta lasciando trascorrere il tempo Vabbè dai Grazie a tutti per la visione Di questo video Ciao E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti